ciao ragazzi io sono red bentornati in questo nuovo video questo è un pillole e sarà un pillole per davvero super veloce perché serve semplicemente a dirvi che questo sabato 2 ottobre ovviamente ci sarà un incredibile evento al monopoli soft air faremo un sacco di cose interessanti tra cui ragazze in vestiti succinti che faranno delle foto con voi io che girerò i miei soliti video come l'anno scorso ma soprattutto ci sarà un ricco premio da vincere per chi verrà e parteciperà faremo anche una live oltre che un video quindi non solo potrete apparire all'interno dei miei incredibili video fenomenali che il sogno di tutti voi ma potrete anche partecipare appunto e cercare di vincere questo incredibile premio quindi venite da noi al monopoli soft air questo sabato 2 ottobre dalle 4 di pomeriggio e incontrate il vostro incredibile eroe oppure venite semplicemente a vedere le belle ragazze che ci saranno detto ciò io vi ringrazio di essere stati qui con noi video veramente molto breve della solo per comunicarvi questa cosa se avete bisogno di ulteriori informazioni potete contattare direttamente il negozio o scriverci su instagram siamo sempre a disposizione per rispondervi qui da red è effettivamente tutto io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo questo sabato qui al monopoli soft air shop stay angry